Il programma pomeridiano Uomini e Donne di Maria De Filippi ha da sempre suscitato la curiosità del pubblico italiano. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare, mettendo in gioco i propri sentimenti. Il trono classico, per esempio, permette ai cosiddetti cancellettotronisti di avere la possibilità di conoscere più persone, i, le corteggiatori, corteggiatrici, per poi scegliere l'anima gemella. Alcune coppie sono convolate a nozze, come Cristiane e Tara, e altre hanno avuto dei figli, ricordiamo Alessia e Aldo che, dopo un periodo di crisi, sono tornati insieme. Quest'edizione è iniziata nel migliore dei modi, dato che la padrona di casa ha reso tronisti dei giovani già noti al pubblico.Si tratta di Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Paolo Crivellino. Il primo è stato un corteggiatore di Desiree e Popper e da poche settimane fa coppia fissa con Vittoria. Sabrina è un'ex ballerina di Amici e, secondo le anticipazioni del web, ha ricevuto un no da Niccolo. Per quanto riguarda Paolo ha partecipato a Temptation Island nel ruolo 501 tentatore ed ha avuto visibilità anche grazie alla fidanzata Valeria. I fans del programma hanno apprezzato la scelta della redazione, ma ultimamente sembra che Paolo non si stia comportando bene nei confronti della corteggiatrice Angela. Mi sto scocciando Paolo ha orientato il suo interesse solo su tre corteggiatrici Georgia, Esther e Angela. La prima ragazza, nonostante sia arrivata in un secondo momento, ha colpito con il suo fascino il tronista al punto tale da concludere la terza esterna con un bacio appassionato. La reazione di Esther è stata immediata, video, infatti è andata via dallo studio televisivo e Paolo non ha voluto raggiungerla nel camerino perché non ha apprezzato il suo modo di fare. Per quanto riguarda Angela, il bel torinese all'inizio aveva dei dubbi perché lei era scesa dalle scale per corteggiare Mattia. Poi le cose sono cambiate il giorno del ventiquattresimo compleanno di Angela, i due si sono baciati e si sono avvicinati fisicamente. Giorgia non ha avuto alcun tipo di reazione e secondo le anticipazioni Paolo deciderà di eliminarla per il palese disinteresse. Quando arrivano le ragazze per il nuovo tronista, Paolo nota la casertana Marianna che vuole portare in esterna. Angela ha subito messo in chiaro che andrà via se il tronista deciderà di conoscere altre persone. Era quello che volevo nelle prossime puntate vedremo che Angela, video, non farà l'esterna con Paolo, il quale deciderà di andare da lei. Nonostante la forte litte, la ragazza dichiarerà di aver apprezzato il suo gesto. Inoltre, spiazzerà il tronista dicendo che gli è mancato più del solito negli ultimi giorni. Questa confessione ha stupito Paolo, ma, in base all'evolversi della situazione, potrebbe essere a un passo dalla scelta. Per scoprirlo non ci resta che attendere. Cancelletto Uomini e Donneceristian Citton Luca e il basonido me ne comungi guerra.